La cosa migliore dell'invecchiare è capire le cazzate che hai fatto e che non rifaresti mai. Questi sono i sei consigli che avrei dato al me stesso ventenne se avessi potuto. 6. Incontrerai sulla tua strada gente che vorrà sempre dirti come vivere la tua vita. Sono bravi a parlare ed è facile ascoltarli. Tu ignorali sempre. 5. Ogni storia d'amore sbagliata ti avvicina a quella giusta. Non ti arrabbiare, non hai perso nulla di importante. Stai solo capendo quanto sarà importante quella che ti cambierà la vita. 4. I tuoi genitori hanno provato a darti tutto, col poco che avevano. Non vale la pena provare rancore per chi darebbe la vita per te. Perdonali. 3. Essere rispettato è una figata. Essere amato ancora di più. 2. Il tuo orgoglio cercherà sempre di rovinare tutto. Le tue amicizie, i tuoi affetti, il tuo lavoro. Cerca sempre di avere empatia perché nella vita puoi avere tutto tranne le persone che perdi. 1. Ti rialzerai in piedi, smetterai di soffrire, ti dimenticherai del dolore e un giorno tutto avrà senso. Ciao.